Con noi Giulia Orlandi, centrocampista del Prima Donna Firenze. Giulia, nonostante l'ottima prova, purtroppo oggi la corsa del Firenze si arresta dopo i tre successi consecutivi e oggi deve lasciare i tre punti al Venezia. Sì, purtroppo oggi è andata così. Veniamo da una settimana, compresi i recuperi, infatti la stanchezza si è fatta sentire. Questo non ci deve assolutamente abbattere, il morale deve rimanere tranquillo, dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare in molte cose e speriamo comunque di tornare a fare il risultato. Un'analisi sulla partita, forse appunto la stanchezza e i 90 minuti di martedì si sono sentite ad un certo punto, ma il pareggio sarebbe stato secondo te il risultato più giusto per quello visto in campo? Penso che noi nel secondo tempo abbiamo avuto varie occasioni che dovevamo sfruttare nel modo migliore. Anche nel primo tempo, subito il gol, abbiamo avuto la possibilità di realizzare il rigore e purtroppo non è andato a buon fine. A volte bisogna accettare quello che viene e da quello che si subisce ricostruire, ripartire e creare qualcosa di nuovo. Oggi si chiude il girone di andata, un bilancio su questa prima parte di stagione del Firenze. Per come si era partiti, francamente in una settimana abbiamo realizzato vari punti, molti punti che ci hanno risollevato il morale e anche la classifica. Ovviamente adesso ci aspetta un nuovo campionato perché si riparte tutto da zero cercando di realizzare e partire nel migliore dei modi. Bene, grazie Giulio Orlandi.